Mi chiamo Federica, frequento la scuola di ginnastica e ritmica da Sì a Battipaglia perché è uno sport che mi piace e mi appassiona e credo che può appassionare tutte le bambine quando lo provano. Sono quattro anni che faccio questo sport e spero in futuro di insegnare e di diventare una giudice di alto livello. Sei andata anche fuori Battipaglia a fare qualche manifestazione? Sì, abbiamo fatto anche qualche stage con ginnaste importanti. Hai vinto qualcosa nel frattempo o solo soddisfazione personale della mamma? No, ho fatto prima la specialità con la palla. Mi chiamo Giulia, ho 17 anni e pratico la ginnastica ritmica da ben 13 anni. Sembra con la stessa società, la Sisi? Successivamente mi sono iscritta alla Sisi ed è stata una bella esperienza. La vostra specialità? Il cerchio. Ce l'hai qualcuno? Sì, sì, il cerchio. Sono Roberta, anch'io ho 17 anni e siamo compagne. Anche stavamo insieme in un'altra società e poi successivamente siamo passati con la Sisi. Ciao, sono Luna, ho 16 anni e questo è il secondo anno che frequento la Sisi. Frequento, ho iniziato a fare ginnastica ritmica l'anno scorso e la facevo quando ero piccola. Diciamo che appena sono arrivata ho subito trovato un bellissimo ambiente, sia per quanto riguarda la palestra, per le compagnie di squadra e anche per le allenatrici che sono molto brave. Penso che questo sport sia molto importante perché ci dà un grande spirito di squadra, ma ci dà anche un altro modo di affrontare la vita, in modo più sereno e anche più combattivo, ad esempio anche per quanto riguarda il mondo scolastico. La mia specialità è la palla. Come ti chiami? Mi chiamo Azzurra. Tu? Idaia. Io Kette. Erika. Gabriella. Bene, dove ci troviamo? Nella palestra? Nella palestra, ci troviamo nella palestra della Sisi, che frequento da sei anni. Qual è la tua specialità? La mia specialità è il cerchio e da grande odio continuare a fare ginnastica ritmica. E ti diverti quando vieni qui? Più il divertimento o più l'attività fisica? Per me più l'attività fisica. Con le mie che ti trovi o ti bisticci pure? No, mi trovo. Ti trovi con tutti. Tu? Io faccio palestra da due anni. Sì. La tua specialità è la palla. È la palla. Tu invece? Io frequento la scuola di dinastica ritmica da otto anni e la mia specialità è la palla. Anche tu? Vieni per divertimento o perché ti piace l'attività fisica? No, perché mi piace l'attività fisica. Le amichette? Ti trovi con le amichette? Tu? Io invece sono Erika e frequento questa associazione sportiva direttantistica alla Sisi di Battipaglia. da quattro anni. La mia specialità è il cerchio. E pratico questo sport perché fin dalla prima prova mi sono innamorata di questo sport. Sia per l'attività fisica sia per le gioie che procura. Procura. Brava. E hai fatto già qualche gara? Sì. Che emozionano le gare? No? È abbastanza. Poi con l'abitudine, grazie anche alle nostre allenatrici che ci incitano a essere sicure, a dominare la fedana, stiamo cercando di lavorare su queste emozioni. Va bene. Tu? La tua specialità è il cerchio, giusto? La mia specialità è il cerchio. Sì. Sono qui da due anni. Questo sport mi piace perché è bello. Mi scateno, quindi sono una ragazza molto scatenata. E mi diverto molto. Mi trovo bene con le amiche. Riuscite a conciliare sport e studio? Sì. Non è che trascurate lo studio, no? Andate ben a scuola tutte quante. Sì. Sì, sì. Andate ben a scuola, no? Sì. 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 Sì.